Tra le novità che attendono gli studenti nel prossimo anno c'è quella che vede il ritorno nelle classi elementari del giudizio, ovvero la valutazione finale degli alunni non sarà più espressa in voti numerici, come prevede un emendamento presentato da alcuni senatori approvati in Commissione Cultura e Istruzione. L'altra novità è l'intesa che è stata raggiunta nella maggioranza per il concorso per i precari, con la prova scritta che si terrà nell'anno scolastico 2020-2021. La presentazione delle domande è stata sospesa. Progetti insomma in attesa di tornare a scuola a settembre. È stata bocciata anche l'ipotesi dell'ultimo giorno in classe per gli alunni di quinta elementare e di terza media, così come l'apertura di alcune scuole dell'infanzia a partire da giugno. Ora che devo rientrare al lavoro, il fatto che mia figlia non possa andare all'esilo nei mesi estivi o comunque nei centri estivi, mi provoca veramente un grande disagio. Simonetta è una mamma italiana che lavora e che in questi mesi ha gestito la sua bimba, Linda, a casa, facendole da genitore e insegnante. E il disagio non finisce qui. Quante scuole per l'infanzia riapriranno a settembre? In Italia cooperative e imprese sociali gestiscono tra il 60 e il 65% degli istituti e se salta il 40% di quelle imprese, molti di loro rischiano di non aprire nemmeno con il nuovo anno scolastico e questo diventa un problema per le famiglie, le persone fragili e anche le altre imprese che avranno lavoratori acrobati tra casa e professione.